Buongiorno a tutti, voglio fare un semplice test, qualche giorno fa ho messo sui commenti che per me il miglior portiere del mondo era, se l'avete visto sapete che ho messo, quindi se avete visto sul canale Accademia del Calcio Stefano Pardini di Youtube e su tutti i social riguardante Stefano Pardini, Accademia del Calcio, sapete che ho messo come miglior portiere del mondo secondo il mio parere, ma secondo il vostro, qual è il vostro parere in questo momento il più forte portiere al mondo? Scrivetemelo sotto i commenti e vediamo secondo voi chi per voi è il più forte del mondo in questo momento, io ho già dato il mio parere, Noolsia Steggein, Accademia del Calcio